Durante la pandemia sono cresciuti i reati ambientali in Puglia. Abbandono e illecito smaltimento dei rifiuti e incendi boschivi, i fenomeni più gravi nella nostra regione, le province di Foggia, Bari e Bat, quelle più colpite. E' stato illustrato il bilancio 2021 delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti forestali, ambientali e agroalimentari condotte dai reparti forestali dell'arma dei carabinieri sul territorio regionale. 71.000 controlli in fasi di prevenzione, 3.400 illeciti amministrativi con un aumento del 15,13% delle sanzioni inflitte, il cui ammontare complessivo è stato pari a circa 3 milioni e mezzo di euro. Quella dei rifiuti continua a costituire una delle criticità di maggiore gravità per l'ambiente in Puglia. I carabinieri forestali hanno eseguito 9.300 controlli, in particolare i fenomeni di illecito smaltimento attraverso gli abbandoni e le combustioni, soprattutto nelle campagne, nonché le discariche abusive e i depositi incontrollati. Ci sono interventi anche delle cosiddette eco-mafie che è la criminalità organizzata che conduce determinati processi nei quali non solo l'arma dei carabinieri ma anche altre forze di polizia contrastano e cercano di contrastare il fenomeno a più alti livelli. Ma la vera piaga in Puglia è quella degli incendi boschivi, come evidenzia il Antonio Mostacchi. La piaga degli incendi boschivi è quella che più di tutte ci preoccupa. La Puglia oggi è la quinta regione d'Italia come numero di incendi boschivi. 478 nello scorso anno, oltre il 20% in più. Noi siamo preoccupati per delle forme di speculazione del territorio post incendio, tant'è vero che oggi riscontriamo che oltre il 58% dei comuni della nostra regione sono in adempienti rispetto all'aggiornamento del catastro delle superfici percorse dal fuoco.